Ciao, benvenuti al mio podcasting stagione 6 Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza Mio Radar E Paleo Contatto Ciao Ciao, benvenuti ad un altro episodio di mio podcasting Episodio numero 65 stagione 6 In questo breve podcast vi parlerò rapidamente di una serie di racconti di fantascienza Che potete leggere sia in inglese quanto successivamente fra un po' anche in italiano Racconti di fantascienza di E.C. Clark Quindi un autore molto noto Racconti come Second Dawn, The Deep Range, The Nine Billion Names of God, The Parasite, The Star, The Stroke of the Sun E A Walk in the Dark Tutti i racconti di Clark Sono facilmente rintracciabili e scaricabili in PDF in inglese Questi successivamente li potrete trovare tradotti anche in italiano Nei link in descrizione di questo file Trovate praticamente disponibili Il link appunto per raggiungere sia la pagina dove scaricare i testi in originale in PDF in inglese Se volete leggere appunto questi racconti in originale in lingua inglese Con un'intervista anche di Clark che ho raccolto su YouTube Oppure successivamente sarete catapultati se vorrete a una playlist di fantascienza di audio libri in italiano Dove prossimamente troverete in futuro tutti questi racconti tradotti in italiano da me in medesimo Oltre che i racconti di Clark potete trovare, troverete nella raccolta della playlist di audio libri di fantascienza Anche i racconti di Wyndham E soprattutto i racconti di Philip Dick In particolar modo Adjustment Theme Breakfast at Twilight Exhibit Peace Foster's You Are Dead Human is James P. Crow Meddler Progeny Prominent Author Poisell's Peach Shell Games Small Town Souvenirs Survey Team The Crawlers The Golden Man The Last of the Masters The Turning Wheel Upon the Dual Heart Questi sono tutti i racconti che, sempre nel link in descrizione di questo file, sarete catapultati sulla mia bloggata dove, se vorrete, troverete questi racconti in inglese, in PDF e in originale da leggere, appunto. Altrimenti, prossimamente, anche tutti questi racconti li troverete tradotti in italiano, quindi sia in PDF quanto nella playlist di audio libri, troverete anche nella playlist un'intervista a Philip Dick che io ho raccolto da YouTube. Oltre che a Dick, Clark e Windman, su questi, diciamo, testi eterogeni di vari giornali e magazine di fantascienza, potrete trovare nella raccolta di playlist di fantascienza anche numerosi racconti sempre di Dick, Clark e Windman provenienti da If Words of Science Fiction, che sto incominciando a leggere e tradurre e via via che trovo racconti di questi tre autori, li appunto traduco e li inserisco sia come PDF, sia come racconti e sia come audio libri nella playlist di fantascienza. Questo podcast, più che andare a ragionare di fantascienza, è un promemoria di quello che trovate e di quello che troverete, quindi un programma futuro, e quindi cosa vi posso dire? Se siete interessati, buona lettura e buon ascolto. Un saluto, ciao, alla prossima.